ciao a tutti secondo video a tema NBA top class una nuova collezione uscita sotto panini che la distribuisce per il momento sembra solo in paesi esteri ovvero in questi la cosa che fa un po' strano è che sono prodotte da panini modena quindi anche vicino adesso dove è scritto qui ecco modena quindi vicino anche dove abito io ma io sono dovuto andarle a comprare dalla germania quindi prodotte in italia esportate fuori noi li andiamo a comprare da fuori per riportare dentro questo è il triste destino di chi è appassionato non del calcio cioè anche del calcio ma una volta che adesso preferisce l'NBA o il wrestling come me e quindi tocca arrangiarsi così allora una collezione che come vi ho già fatto vedere nel primo video ha dei pacchetti base da 2 euro che contengono 8 card e dei fat pack che sono dei pacchetti più grossi come questo che contengono 24 card e 2 card holo adesso vi spiego che cosa sono anche le card holo prima introduco quest'ultima configurazione che è il team box che contiene 40 card e 3 holo adesso vi spiego un attimo come sono le card allora le card base sono queste sono ad esempio queste qui con i nomi dei giocatori qui in alto e sono 135 all'inizio se voi comprate il comodo raccoglitore all'inizio trovate la checklist totale come vi avevo già fatto vedere nello scorso video e nel raccoglitore la prima volta che succede ci sono esattamente 270 questa è l'ultima card ci sono 270 spazi da mettere tutte le vostre card della collezione della collezione diciamo così base che è un evento più unico che raro la qualità dell'album non è eccezionale ma ne ho visti di peggio nonostante quali c'è come vedete tutto spiegazzato lo spessore ne ho sentiti anche dei peggio ma diciamo che è medio bassa la qualità però tanto lo spazio c'è quindi è già tanto visto che ci sono delle collezioni a cui manca anche oltre a queste 270 card però ci sono anche le holo le holo sono queste qui con riflessi di luce e sono non ho trovato un numero quindi non so dirvi quante sono ma sono penso dei giocatori più importanti o di quelli presunti tali perché poi abbiamo anche dei nomi minori come nurkic o akimura che effettivamente non sono giocatori così importanti per cui io di questo non so darvi un numero ma sono diciamo extra nella collezione quindi c'è qualcosa di più oltre a queste extra esistono anche le versioni unbeatable che sono queste ultime card che si possono vedere qui ad esempio questa qui di kd ve la faccio vedere meglio tirandola fuori tanto sono card molto belle si si vede proprio da riflesso da come sono fatte che meritano e le versioni colorate diverse hanno la scritta in un altro colore e anche un po' lo sfondo cambia alcune cose e le parallele ci sono solo di queste qui in più si potrebbero trovare c'è scritto 20 card base con autografo reale o sticker ma dubito che ve le potrò mai fare vedere una perché dubito di pullarne ce n'è uno ogni 750 pacchetti circa è una roba assurda però piuttosto che niente non si sa mai è un po' come vincere la lotteria presumibilmente ma è una cosa che dà un valore extra alla collezione per cui tanto meglio che ci siano con questo è tutto volevo solo riepilogarvi che c'è questa bellissima collezione mba che è uscita da pochi da pochissimo almeno che io sappia l'ho vista ora che ci sono tante card base adesso io le ho già messe nel raccoglitore perché stavolta lo trovo comodo per il fatto che ci sia un proprio di 270 e ci sono tante parallele di tipo diverso quindi per tutti i gusti queste sono stupende ad esempio in bianco e nero la qualità della carta in sé è molto alta io una qualità così da panini era una vita che non la vedevo è quasi a livello delle card collezionistiche americane anzi certe serie sono inferiori a queste quindi mi sento di consigliarlo a tutti gli amanti dell'nba proprio tutti sono fantastiche e questo che ho tenuto per ultimo è un box di fat pack ci sono dieci fat pack box intero e ce lo andremo a sbustare nei prossimi video se vi interessa e se avete intenzione di vedere un po cosa esce fuori anche questo qui lo dobbiamo ancora aprire lo apriremo è molto grande anche se dentro effettivamente non ci sono così tante card però ok con questo è tutto a io lo so lo so vi vedo vi sto vedendo voi volete sapere dove si possono acquistare ma intanto cercatele su internet ho visto che già si trovano anche su amazon a prezzi un po maggiori e io senza fare pubblicità perché a me non intera non mi viene niente in tasca non mi sponsorizzano me ne sono pagate di tasca mia io le ho comprate su sticker point che è un sito tedesco ma cercate su google sticker point lo trovate subito che vende figurine sticker in genere e anche card e si trovano lì a un prezzo abbastanza conveniente da quello che ho visto in giro poi se ci sono altri siti a prezzi minori perfetto segnalateli nei commenti che possono sempre essere utili e che dire appuntamenti i prossimi sbusti e come per tutte le altre collezioni e poi dopo se ci sarà da fare degli scambi ci sentiamo nei commenti per il momento è tutto appuntamento al prossimo video